Grazie a tutti. Tra cui quello di Senigallia, Montemarciano e un terzo comune e per ognuno di questi comuni è stato portato avanti un progetto pilota di sviluppo turistico. Per il comune di Senigallia è stato sviluppato questo EcoCamp che aveva l'ambizione di diventare anche un manuale di buone prassi. Era l'occasione di approcciare il problema partendo dalla pianificazione e non partendo da una struttura esistente da adeguare. Era un'occasione preziosa per sperimentare tutte le metodologie di ecosostenibilità partendo dalla pianificazione. Praticamente le strategie generali del progetto era quella appunto di sviluppare questo programma innovativo e definire poi una modalità, un set di proposte innovative, proposte che dovevano trovare una loro fattabilità operativa e economica, buone prassi che potessero essere esportate e poi questo avvio di sperimentazione di sistemi di gestione ambientale perché i fondi tra l'altro venivano da un finanziamento europeo in cui poi appunto la definizione di buone prassi, l'esportazione di queste buone prassi era un punto fondamentale del programma. Il programma riprende e enfatizza quelli che hanno gli obiettivi del piano che ho appena illustrato, quindi quello di valorizzare le diversità, quindi queste diversità naturali, mare e collina, ripristinare questo equilibrio che era stato così violentemente interrotto e quindi alleggerire questa fascia più fragile e più debole e privilegiare la fruizione del mare per il turismo e quindi per una fruizione meno aggressiva. E poi l'idea di riqualificare l'offerta per il turismo. Nello specifico invece questi sono gli schemi, gli obiettivi principali, poi vediamo come il progetto li ha declinati, quindi l'idea di trasferire tutte queste attività in un unico punto organizzato, di realizzare poi un parco litoraneo nell'area lasciata libera dai campeggi, poi di riuscire a spostare i flussi di attraversamento in una viabilità parallela e di invece avere dei collegamenti tra l'insediamento turistico e il mare diretti e pedonali, quindi destinati soltanto alla pedonalità e messi comunque in sicurezza. come ho detto recuperare le aree del mare, è presente lì una bellissima duna con questa vegetazione tipica che molto spesso poi i bagnini concessionari del demanio marittimo tagliavano, hanno praticamente progressivamente tagliato in alcuni punti è completamente sparita e poi il discorso appunto di buone pratiche e quindi di avere poi una diffusione che sia concretizzata in un libro. Questa qui è l'area di intervento, si vede la parte della spiaggia con tutti gli ombrelloni, la fascia immediatamente dietro la viabilità di lungomare e la fascia dei campeggi e l'area di intervento invece è un'area agricola dove era presente un solo campeggio, un'area agricola praticamente inedificata, caratterizzata da questi percorsi ortogonali al mare. Qua sono un po' di immagini di questi campeggi, pochissimi servizi, delle roulotte fisse che rimanevano anche l'inverno, con delle strutture, l'inverno diventavano veramente inquietanti e l'estate diventavano degli alveari senza neanche tanti requisiti igienico-sanitari. Queste sono fotografie fatte durante l'inverno, poi questo misto, ecco vedete, l'albergo tipico degli anni 70 a Sette Piani, e questa duna che addirittura, vedete, questo è il pezzo di duna interrotta dalla strada che ancora resiste. Questi sono gli attori coinvolti, va bene andiamo veloce così non vi... Questa è stata la metodologia di lavoro perché si è partita da tutta una serie di analisi fatte anche poi sul traffico, su tutte le condizioni anche climatiche del sito, poi c'è stato un forte momento di partecipazione con tutti gli operatori, con la cittadinanza, e poi è stato sviluppato il progetto pilota, poi è stato aperto un sito web, sono stati fatti dei convegni, insomma, ed è stato poi pubblicato il libro e lanciato il libro. Quindi vabbè, queste sono sempre le attività, andiamo avanti. E qui arriviamo al progetto, e qui diciamo è schematizzato un po' come gli obiettivi si sono poi concretizzati nell'insediamento, quindi il discorso di liberare la fascia litoranea e di concentrare nei parcheggi, la concentrazione anche dei servizi al turismo in un'unica zona, quindi potendo garantire un'alta qualità dei servizi, andiamo avanti, tutto questo è un po' ripetitivo, come poi è stata riorganizzata la mobilità, quindi spostando poi tutti i flussi veicolari a monte e invece favorendo poi tutti i percorsi pedonali all'interno del campeggio in cui c'è una sola strada veicolare, il resto è tutta percorribile a piedi o con mezzi elettrici. Questi sono invece i sei punti, i sei criteri di ecosostenibilità che sono stati tenuti presenti e hanno fatto da guida del progetto, cioè un'organizzazione morfologica dell'insediamento che favorisse l'ecosostenibilità dell'intervento, la valorizzazione degli ecosistemi, il governo della mobilità della sosta, il risparmio delle risorse idriche e energetiche, la gestione dei carichi ambientali e la progettazione in bioarchitettura. Quindi ogni politica, ogni azione ha il suo simbolino corrispondente. Il primo è l'organizzazione morfologica dell'insediamento. A destra, sul fondo nero, vedete proprio uno dei primi schizzi che illustra un po' la genesi del progetto che è praticamente basata tutta sull'asse liotermico, che è questo, che passa per il punto più alto perché qui c'è una collina che poi degrada. L'asse liotermico è l'asse ideale di orientamento degli edifici affinché l'involucro architettonico possa avere criteri di ecoefficienza rispetto al clima, al clima mediterraneo in questo caso. Infatti tutte le edificazioni collinari, perché prima in questa zona non c'erano edificazioni a livello del mare, ma erano tutti sulla falesia, quindi sulla collina, tutti i casolari rustici sono tutti quanti orientati verso quest'asse, con il lato corto, diciamo, verso il mare e il lato lungo perpendicolare, in maniera che l'involucro edilizio potesse raccogliere, assorbire il più sole possibile durante l'inverno e quindi favorire il riscaldamento naturale e invece potesse essere, garantire un maggiore umbreggiamento durante l'estate. E poi questo asse liotermico, poi sono stati invece fatti incrociare la direzione dei venti, la direzione dei venti che sono perpendicolari alla costa perché è caratterizzata da venti, da brezze marine, e poi a partire dai due centri individuati, che sono l'incontro tra l'asse liotermico e quello dei venti, è stata organizzata, diciamo, un'organizzazione morfologica che consentisse a tutti gli insediamenti il maggiore affaccio sul mare, perché ovviamente l'affaccio sul mare, la vista sul mare, è un elemento che qualifica la posizione poi degli insediamenti. Questo progetto di EcoCamp ha avuto poi uno sviluppo, come vi dicevo, alle strutture turistiche ricettive, quindi questa curva poi è continuata, però da convessa è diventata concava e allo stesso modo garantisce il maggiore affaccio possibile verso il mare. Questa conformazione favorisce appunto tutta una serie poi di sviluppo di architettura con criteri di bioarchitettura, favorisce, poiché i servizi centrali vengono ubicati in questa zona, favorisce poi il ruscellamento delle acque verso valle e quindi ci ha consentito di sviluppare al meglio poi tutta una serie di interventi in ecosostenibilità. Questi sono i primi studi sull'impianto e poi sullo sviluppo anche in EcoGate. Questo è l'assetto finale, avrei bisogno di un puntatore però farò con... Nel punto centrale il punto più alto praticamente è la piazza dei servizi ed è il punto che è accessibile dalle auto perché ha poi tutto un parcheggio auto vicino. È il punto più alto, quindi anche il punto più fresco e da cui si gode la massima visibilità. Immediatamente oltre ai servizi c'è la parte più edificata. Tenete presente che noi qui avevamo il vincolo dei 300 metri di inedificabilità dalla costa del mare per cui nella parte entro i 300 metri ci sono tutte le tende, la parte di tende quindi non edificate. Oltre i 300 metri abbiamo invece i bungalow e più in alto ancora i servizi. Praticamente c'è un'unica strada che è subito sotto i bungalow che è una strada di servizio veicolare e da lì invece si spiccano tutti i percorsi pedonali che non hanno nessun attraversamento di strada veicolare ma sottopassano sia la strada statale che la ferrovia e arrivano al mare. Praticamente la fascia di mare completamente liberata dai campeggi diventa un parco, un parco litorano in cui sperimentare anche un tipo di stabilimento balneare diverso da quelli che caratterizzano molto la costa adriatica cioè gli ombrelloni in batteria, tutte in fila. È un po' un'abitudine, non so qui in Puglia ma lì tra Marche e Romagna al mare si fa di tutto per esempio personalmente non è un tipo di fruizione della spiaggia che mi piace però lì le famiglie arrivano al mattino e poi fanno tutto in spiaggia quindi la spiaggia è molto usata per lo sport, per giocare a carte, per ballare, per i massaggi cioè praticamente le attività di casa si svolgono in spiaggia, si ricevono gli amici ed è una fruizione molto molto intensiva quindi con organizzazioni, con poi questi autoparlanti, musica, che è un tipo di fruizione balneare che non a tutti può piacere, cioè chi predilige invece la fruizione del mare diciamo come un momento di relax, di contatto con la natura e quindi come vedete è un'organizzazione che cerca di prediligere tutta una serie di fruizioni un po' più soft, diciamo, quindi meno intensive e quindi nella parte di Parco Litorano è stato sviluppato tutto un progetto adesso le immagini sono molto piccole quindi non permettono di apprezzarlo abbiamo anche posto come tema di un corso di tesi dell'Università di Napoli e gli studenti hanno realizzato tantissimi progetti molto molto interessanti per lo sviluppo di stabilimenti balneari alternativi ecologici poi sono state a livello di impianti è stata prevista che tutte le acque bianche che da monte vengono fatte ruscellare verso valle siano raccolte nella fascia accanto alla statale 16 dove c'è tutta una fascia di verde, di filtro, quindi vengono raccolte e vengono poi riutilizzate per l'irrigazione dell'intero complesso le acque nere invece vengono raccolte in una spina centrale che è quella lì, dove ci sono tutte vasche di fitodepurazione vasche di fitodepurazione che al contrario di quello che si pensa non emettono cattivi odori se fatti in un certo modo sono state tutte dimensionate e diventano anche un elemento che caratterizza invece l'ambiente perché queste vasche di fitodepurazione nelle vasche devono essere impiantate delle piante acquatiche che poi consumano i rifiuti che diventano un elemento anche di distrazione del verde e di arredo urbano molto interessante la raccolta dei rifiuti differenziata invece è organizzata lungo i percorsi pedonali, immaginando appunto che il turista potesse portarsi dietro i propri rifiuti mentre va a mare e trova i bidoni della raccolta differenziata lungo il percorso e che quindi non debba fare un percorso aggiuntivo per andare a portare i rifiuti ed è prevista poi la raccolta attraverso dei mezzi elettrici che la raccolgono e la conferiscono anche in tutta la raccolta degli oli c'è un'area di camper stop che è un po' più esterna che è quella triangolare e comunque quella dei parcheggi è previsto tutto un sistema di raccolta di questi rifiuti lungo i percorsi pedonali sono previsti degli impianti che buttano vapore per rendere questi percorsi soprattutto fatti magari in ore in cui il sole è molto forte per aumentare il comfort ambientale di chi percorre questi percorsi quindi praticamente sono impianti che spruzzano vapore temporizzato poi c'è stato tutto uno studio anche sulla sistemazione del verde questo è come è gestito e come è organizzato quindi tende roulotte nella parte più bassa la stecca dei servizi igienici è praticamente subito a monte delle vasche di fitodepurazione quindi si ha servizi igienici e vasche di depurazione una batteria di tende fisse che poi vedremo perché è un'idea che è stata presa da alcuni campeggi americani sono delle tende fisse che si organizzano intorno a degli spazi comuni quindi immaginando poi che il campeggio possa essere anche un luogo di socializzazione e non di riproposizione di questo individualismo che noi abbiamo in città in cui ognuno deve avere il proprio accesso non nessuno deve vedere l'altro invece di cercare di favorire l'aggregazione oppure per essere flessibili a gruppi di amici che hanno poi uno spazio comune da gestire per mangiare insieme, per giocare insieme e poi bungalow e servizi ricreativi questa è la piazza anche per la piazza è stato studiato tutto un sistema di ombreggiamento rispetto poi alla sua posizione rispetto al sole rispetto ai venti questa è la parte di bungalow abbiamo anche poi ripreso e spiegato nel dettaglio che il bungalow non deve essere necessariamente la struttura di legno prefabbricata e omologata che vediamo in tutti i campeggi ma che ci possono essere delle forme molto interessanti e molto anche divertenti quella è l'ipotesi del bungalow a Margherita senza arrivare a degli eccessi però insomma abbiamo riportato vari esempi ci sono alcuni bungalow, esperimenti fatti alcuni campeggi, alcuni loggio in Africa fatti con i sacchi di paglia ci sono comunque delle esperienze divertenti abbiamo messo così insomma come paradigma è un settore in cui la sperimentazione e la ricerca ancora in Italia non si è sviluppata ma varrebbe la pena di svilupparla il bungalow che noi abbiamo progettato ecco abbiamo messo un po' di esempi quello che abbiamo progettato noi in bioarchitettura non fa altro che riprendere i concetti di bioarchitettura dell'architettura tradizionale che nel frattempo si erano persi non so se tra di voi ci sono dei tecnici comunque fino alla fine dell'ottocento inizio del novecento la diciamo ecosostenibilità degli edifici veniva tutta affidata all'involucro quindi ai materiali ai muri di pietra o di mattone al loro spessore a loro quindi capacità di trattenere o di rilasciare il calore alle zone di filtro che dovevano ombreggiare durante l'inverno penso ai portici, alle verande, alle logge ombreggiare durante l'inverno e fare da filtro poi al freddo durante il periodo invernale ad esempio questi elementi nel caso di Senigallia nell'architettura erano completamente speriti perché siccome le norme hanno stabilito che una loggia fa superficie utile lorda era superficie sprecata per cui se c'erano sono state chiuse e negli edifici nuovi non sono stati più riproposti le scale interne fanno superficie utile lorda le scale venivano sbattute tutte fuori quindi significa una scala all'aperto che durante l'inverno si ghiaccia che la gente si rompe le gambe e poi soprattutto porte che si aprono direttamente sui soggiorni questi soggiorni all'americana aver fatto sparire anche gli ingressi sempre per problemi di ottimizzare la superficie utile lorda significa una dispersione termica enorme perché ogni volta che si apre una porta non c'è una loggia e non c'è un ingresso cioè si disperde una quantità di calore incredibile finestrature esagerate messe nei posti sbagliati invece quando l'involucro edilizio consente il raffrescamento estivo la cattura più possibile del sole inverno sì, è l'involucro stesso che assolve invece nell'era moderna non è più cioè queste funzioni non sono più affidate all'involucro ma sono affidate agli impianti riscaldamento e condizionamento che sono le due cose che consumano più energia in assoluto più energia in assoluto abbiamo fatto poi degli studi sui consumi energetici di determinati impianti tra cui anche gli aeroporti uno immagina l'aeroporto chissà quanto energia consuma l'aeroporto consuma essenzialmente l'energia per i condizionatori per il riscaldamento l'inverno quindi bisogna soltanto riprendere quelle tecniche ovviamente poi nei paesi europei che di sole ne hanno poco la bioarchitettura si sviluppa attraverso le serre solari pareti vetrate da noi invece è il contrario bisogna soprattutto ripararsi dal calore e catturare quel calore estivo quel calore del sole in inverno per cui il tipo di bungalow che abbiamo progettato ha una loggia con un brisolei che serve con delle lamelle orientabili che possono essere chiuse quando il sole è molto forte e quindi avere l'ombreggiamento totale rimangono semi aperte e quindi consentono l'ingresso del vento con questa apertura verso l'altro quindi catturano più vento possibile c'è comunque un'apertura e quindi la possibilità del vento di passare oltre e quindi l'aria calda viene assorbita e viene portata via i bungalow sono tenuti rialzati rispetto al terreno quindi consentendo all'aria fresca di passare sotto e quindi di evitare il surriscaldamento e poi ci sono i pannelli sonari sul tetto quindi questo spiega anche l'inclinazione e poi tutta una serie di accorgimenti in merito all'utilizzo dei materiali delle finiture delle tinteggiature e anche a tutto il sistema tutto il sistema di illuminazione di illuminazione interno questa è l'ipotesi di tenda fissa perché nei nostri campeggi le tende sono un po' sparite o le piazzole più sfortunate vengono poi lasciate libere per il giovane che arriva saccappello e tenda in realtà ci sono dei campeggi in cui le tende e queste tende fisse che vengono praticamente affittate come se fossero i bungalow sono veramente molto belle addirittura dentro ci sono questa è una tenda fissa ci sono dei veri e propri dei veri e propri salotti quindi sono strutture che poi in inverno possono essere smontate e quindi sono veramente temporanee e sono molto più integrate nel territorio questa è l'ipotesi di aggregazione che abbiamo fatto studiando una forma ripetitiva un modulo ripetitivo intorno a una sorta di piazza già attrezzata per fare il barbecue con un tavolo in mezzo insomma un luogo di socializzazione ma nello stesso tempo poi ogni bungalow ha la sua parte diciamo di privacy se non vuole poi partecipare alle attività collettive questa è l'area delle tende mobili delle roulotte che è un po' più meno progettata questa è la parte di parco e questi qui sono questo è uno dei progetti che ci era piaciuto di più degli studenti di Napoli che si chiama il titolo è Sur la plage che avevano studiato tutto un sistema di utilizzo particolare di questo parco poi ci sono tutte le attrezzature del verde gioco e lo sport abbiamo progettato anche non la solita piscina ma un ecolago e adesso adesso sono molto più utilizzati di prima perché comunque ci sono poi delle istruzioni tecnologiche che garantiscono la pulizia dell'acqua praticamente è un sistema di piscina con acqua dolce acqua naturale con acqua pulita filtrata che consente però lungo i bordi ma anche all'interno del laghetto della piscina perché di fatto è un lago piscina lo sviluppo anche di piante quindi è un tipo di piscina come se fosse un laghetto molto naturalizzato però con un'acqua comunque pulita e poi c'è tutto il dettaglio anche costruttivo di questo lago che è molto interessante abbiamo proprio preso degli esempi realizzati quello è uno più o meno è così quello in alto come se fosse un lago in realtà è una piscina artificiale ma molto naturalizzata questa invece è la batteria dei servizi igienici e delle vasche di fidodepurazione adesso questo è un rendering che è piuttosto credo comunque sono vasche comunque basse con tutta una serie di piante tra cui tra l'altro un tipo di di canna che lì nella zona cresce spontanea per cui comunque anche con un tipo di pianta molto molto naturale molto autoctona anche la batteria anche nei servizi è stata poi utilizzata sono stati utilizzati tutta una serie di accorgimenti a partire dal recupero delle acque utilizzate delle acque bianche e delle acque nere per diversi usi questa è la strada anche per la strada sono stati scelti materiali materiali più leggeri per la pavimentazione le batterie di parcheggi hanno tutte delle pensiline con i pannelli solari i lampioni hanno i loro pannelli solari quindi si autoalimentano e il percorso ciclopedonale con materiali naturali anche l'utilizzo dei materiali naturali è stato abbandonato nel tempo per i percorsi pedonali a favore per esempio degli autobloccanti ma intanto la qualità è peggiorata cioè se voi vedete la differenza tra un marciapiede viene da sé un marciapiede in porfido e un marciapiede in autobloccante è normale il problema sicuramente è di costi però intanto la durata del tempo di un materiale naturale è sicuramente molto maggiore e poi la qualità urbana la qualità urbana ha un valore ha un valore anche economico che ritorna questo è il punto la qualità architettonica è un valore che ritorna per cui bisognerebbe un po' invertire e cercare anche di farlo capire molto spesso ai costruttori alcuni di questi sono sensibili che non è nella ricerca del massimo sfruttamento della superficie utile lorda ma la qualità l'edificio urbano un percorso urbano partecipa al paesaggio urbano è il paesaggio di tutti quindi un brutto edificio è un problema cioè crea un problema per tutti cioè ha rovinato una parte di paesaggio un insieme di brutti edifici hanno fatto un disastro questo avendo poi un'architettura storica di una bellezza incredibile in Italia abbiamo diciamo rovinato veramente moltissimo e continuiamo a farlo quindi diciamo uno stop a questo processo sarebbe assolutamente necessario un po' di amministrazione lo stanno facendo ma a mio avviso non è ancora troppo troppo diffusa questa cultura della qualità che è quella di cui poi si nutre il turismo peraltro questo è il discorso della vegetazione che sono state studiate tutte quante le vegetazioni erbore utilizzando il più possibile quelle autoctone poi a seconda della funzione cioè nelle zone dei campeggi ci servivano delle piante che si sviluppassero in fretta avessero un portamento diciamo di ombreggiatura orizzontale in altre zone invece dei percorsi ci servivano degli alberi con un andamento molto verticale perché dovevano poi segnalare e dovevano fare da punto di riferimento nella zona invece verso la parte agricola abbiamo diciamo ripreso tutta una serie di alberi tipici anche con alberi da frutto tipici del paesaggio rurale marchigiano e questi sono gli esempi e la distribuzione del verde per esempio lungo la statale si sono studiate tutta una serie di arbussi e poi di alberi che potessero fare da filtro non solo a rumore ma anche a tutte le emissioni di gas del traffico ci sono una serie di piante che poi lo assorbono e fanno da filtro la mobilità abbiamo già parlato insomma tutti i parcheggi sono all'esterno ci sono alcuni parcheggi di servizio l'unica strada di percorrenza del campeggio è quella centrale questa è come si sviluppa ma l'abbiamo più o meno già spiegato per risparmio delle risorse come avevo detto come è stato distribuito c'è un impianto di raccolta delle acque bianche che poi viene riutilizzato e quella che non viene riutilizzata viene messa nell'acquedotto industriale questi sono gli impianti di irrigazione quindi tutta la parte delle acque riciclate viene rimandata in impianti di irrigazione c'è praticamente dall'alto verso il basso in determinate ore della giornata parte un ruscellamento di acqua lungo tutto il percorso cioè proprio acqua che scorre che pulisce e raffresca e poi viene raccolto a valle e questa è tutta la distribuzione poi degli impianti dei pannelli solari per la produzione dell'energia e dell'acqua calda questo è il discorso l'impianto per il raccolto dell'acqua bianca e dell'acqua nere e poi tutti i punti di raccolta differenziata e poi la parte la parte invece del parco c'erano tutti impianti per il recupero dell'erba di sfalcio per il compostaggio e qui questa è un po' l'illustrazione questo è l'impianto la vasca di fitodepurazione che si usa comunque molto molto poco in Italia mi è capitato di recente di ristrutturare un edificio in montagna di un borgo a mille metri di quota molto bello era un borgo veneto di mezzo al peggio e il problema del nessuna di queste case ovviamente aveva il bagno e il problema del scarico è un problema che ognuno si è risolto da solo facendo delle cose assurde cioè delle vasche delle fosse biologiche poi tra l'altro lì c'è la roccia quindi sfondando la roccia con dei tubi che poi vanno a dispersione quando sarebbe bastato mettersi insieme e fare una vasca di fitodepurazione ci stava tutta diciamo ma se non c'è un organismo anche se non c'è un'immunistrazione che ti indirizza poi alla fine ognuno si risolve il problema e quindi di dieci case dieci impianti dieci pozzi chi ha tenuta chi ha sempre perché c'è quest'ottica che ognuno fa da solo questa paura del fare insieme che secondo me è un valore che forse con la crisi economica stiamo ricominciando a riscoprire vi porto un esempio non c'entra niente però insomma è nello spirito della giornata di oggi ho fondato di recente un'associazione a Roma che si chiama Fronte dell'Orto perché insieme a altre 30 persone abbiamo occupato un terreno abbandonato dalla ferrovia da 30 anni tra la ferrovia e il fiume Aniene che è un fiume che confluisce nel Tevere e abbiamo fatto degli orti urbani e ognuno di noi ce lo siamo diviso autogestito e la cosa che abbiamo scoperto che al di là dell'orto e ne stanno facendo tantissimi a Roma cioè questa crisi ha portato proprio una voglia di socialità perché questo gruppo di 30 persone abbiamo fatto l'associazione e tutto quanto è un gruppo che è diventato immediatamente attivo nel fare tantissime cose insieme quindi c'è questo bisogno uno di contatto con la natura ma non è tanto avere l'orto per il risparmio che hai in quello che produci è proprio fare qualcosa insieme per cui adesso stiamo facendo un impianto di compostaggio tutti insieme stiamo facendo un impianto di fitodepurazione non abbiamo l'acqua abbiamo fatto tutto un sistema di raccolta d'acqua piovana quindi è fare delle cose insieme e quindi il senso di socialità che si è completamente perso in questo individualismo che ci ha portato ognuno a pensare ai fatti propri con i disastri a tutti i livelli che si sono visti l'ambiente ha bisogno di interventi collettivi e non individuali quindi questo è perché l'ambiente è un bene comune e quindi bisogna che lo affrontiamo collettivamente tutti insieme con un senso di responsabilità questa è più nel dettaglio le piante le simulazioni i rendering io ho delle copie di questo libro Diego Campo se qualcuno di voi è interessato ad averlo ve l'ho detto le dovevo portare ma ve le posso spedire magari le spedite a Marilena e poi distribuire queste sono tavole riassuntive che spiegano tutto nell'ultima parte è un po' più tecnica ve lo anticipo c'è tutta la parte di certificazione EMS cioè i colabel tutti i requisiti diciamo obbligatori e facoltativi la metodologia di applicazione per la certificazione quindi è molto tecnica è sicuramente interessante per chi di voi è un operatore turistico e volesse intraprendere questa strada diciamo si può applicare benissimo ovviamente ad un campeggio esistente oltre che imporre soluzioni tipo tecnico è proprio una gestione ambientale quindi implica un cambio proprio di atteggiamento perché non è che basta mettere le lampadine a basso consumo o cose del genere ma è proprio poi monitorare e gestire proprio il campeggio in maniera ambientale secondo i criteri Ecolabel quindi illustra un po' la metodologia che è stata utilizzata per tutto il progetto e questo progetto noi siamo stati aiutati da Itaca che adesso ha cambiato nome comunque è un istituto interno alla facoltà d'architettura Cuaroni di Roma e del dipartimento di tecnologia ambientale e quindi loro hanno curato tutta la parte per la certificazione doveva la presentazione farla una professoressa dell'università che purtroppo si è ammalata non è venuta e ve lo illustro io io ho seguito tutto il processo perché abbiamo lavorato comunque insieme e questo stesso protocollo poi l'abbiamo attuato sugli hotel sugli edifici invece ricettivi in senso proprio non so che ore sono ecco ora ci rivediamo abbiamo quindi finito in anticipo come ci vogliamo organizzare anche se voi avete qualche dubbio innanzitutto volevo direvi che io ho studiato il tema del campeggio dal punto di vista urbanistico architettonico e ne ho visitati anche molti quindi l'architetto è stato gentile nel dire che i campeggi d'inverno sembrano degli accampamenti perché a volte anche d'estate sono veramente terrificanti quindi trovare un esempio di questo tipo di progettazione che coniughi tutta una serie di aspetti a tutte le scale è molto difficile e soprattutto quando nelle strutture esistenti è molto difficile che qualcuno decida di fare degli interventi di questo tipo e ero in curiosità quindi per sapere volevo sapere insomma gli operatori del settore come hanno accolto questo progetto nel senso loro avevano necessità prima di questo tipo di progetto di riqualificare la loro offerta oppure volevano proseguire in questa maniera e poi come hanno invece risposto alla progettazione allora il primo incontro che abbiamo fatto la prima convocazione non è venuto nessuno ecco non è venuto nessuno perché loro sono tutti concessionari del demanio pagano pochissimo e con pochissimo sforzo hanno un rendimento assicurato è gente che fa altro lavoro e che poi l'estate le roulotte aprono danno un minimo di pulita quindi era una rendita uno in più quindi si sono spaventati si sono spaventati soprattutto quelli più piccoli si sono subito messi sulle difensive ci è voluto parecchio tempo parecchie riunioni parecchie cose per convincerli soprattutto qual era il loro timore quando si è concessionari di un bene pubblico alla fine si è convinti di avere un diciamo di aver acquisito un diritto per tutta la vita e poi da lasciare quindi il terrore di mollare un diritto per loro così prezioso senza un'assicurazione di avere poi altrettanto cioè di avere di avere poi qualcosa in mano siccome questo questo piano noi l'abbiamo impostato come un piano di insediamento produttivo chi è tecnico del settore lo sa si chiamano PIP come se fosse uno di quei piani industriali che però la normativa consente di fare tutte le attività produttive e questa è un'attività produttiva in questi casi c'è una procedura che consente al comune di espropriare le aree quindi acquisirle e poi di riassegnarle di riassegnarle o di vendere a seconda poi del programma e quindi di assegnarle con una concessione non mantenere l'indiritto di superficie per esempio oppure di urbanizzarle e di venderle per cui poi si sono io non le ho portate però seguiva poi tutta una parcellizzazione di questo campeggio venivano diciamo riassegnati a parità di superficie all'interno del campeggio cioè questo è un unico insediamento ma è fatto in modo che possa essere l'insieme di più campeggi proprio perché con servizi unificati però il primo spicchio era di un campeggio il secondo era di un altro era diciamo modulato in modo che potessero essere quindi a quel punto si sono si sono convinti hanno capito che era una grossa opportunità il processo sicuramente è un processo che va gestito con molta buona volontà con molta pazienza vi dico questo processo io poi ho lavorato cinque anni lì poi sono andata via quindi questo era diciamo un po' tutta una mia idea in cui io poi ho trascinato l'amministrazione comunale eccetera andata via io ma non perché però non non si è non è un progetto che è andato avanti però è un progetto che c'è no non è un progetto realizzato quindi è rimasto è rimasto a livello diciamo teorico però il progetto è fatto e potrebbe essere avviato in qualunque momento cioè i presupposti ci sono tutti tant'è che proprio nell'occasione di questo convegno mi è venuta la voglia di ribussare all'amministrazione di Senigallia e rivedere se hanno voglia di riprenderlo questo discorso perché secondo me questo è un momento in cui i campeggi ritorneranno molto in auge perché per la crisi economica sì sicuramente cioè sento tante persone che si sono già organizzate quest'anno in campeggio perché diciamo le crisi economiche a volte portano appunto a tagliare un po' di superfluo e andare a esaltare i valori veri che sanno un po' persi per cui appunto il ritorno tutto questo ritorno degli orti quindi il campeggio vuol dire anche la frizione della natura in maniera diretta per cui sicuramente un fatto economico però quindi secondo me questo è anche il momento giusto per sviluppare questo progetto comunque alla fine si erano convinti tanto che c'era è venuto si sono convinti molto quando è arrivato un operatore dall'esterno dalla provincia di Rimini che voleva partecipare quindi lì hanno detto allora allora c'è c'è eh sì c'è trippa per gatti insomma è una presentazione più diciamo universitaria più tecnica insomma un po' più didattica come dire che parte un po' dall'evoluzione del rapporto tra il turismo e l'ambiente nel nel tempo che si conclude non ve lo leggo tutto poi magari le presentazioni le giriamo si conclude insomma con una nuova un nuovo approccio ai rapporti tra il turismo e l'ambiente con nuovi strumenti normativi basati su un'adesione volontaria cioè nel campo del turismo la certificazione ambientale è diciamo affidata alla volontà dell'operatore turistico di avere poi una certificazione EMAS che è un po' più complicata o Ecolabel questa è una frase tratta dalla comunità europea che spiega che il turismo sostenibile è un insieme di politiche tese ad integrare il settore del turismo nella pianificazione e programmazione delle attività a livello nazionale e locale che è un po' quello che vi ho spiegato durante la mattina che abbiamo cercato di fare a Senegallia cioè di unire tutte quante far convergere tutte quante le politiche del comune verso un unico obiettivo questi sono i principi generali indicatori di misura per un turismo sostenibile io non ve le sto a leggere perché diventa diciamo piuttosto questa è la presentazione che vi dicevo della mia collega sono praticamente tutti i criteri a cui si devono ispirare gli operatori turistici per ottenere poi questi certificati quindi la riduzione dei consumi delle risorse non rinnovabili la riduzione dei rifiuti il mantenimento delle diversità naturali l'integrazione programmazione e pianificazione confronto con tutti i soggetti interessati questo è anche importante e poi una formazione specifica agli operatori turistici e un marketing per un turismo responsabile e quindi l'applicazione di questi principi richiede una serie di strumentazioni cioè questi codici di autorigolamentazione e c'è tutta una direttiva della comunità europea specifiche ci sono linee guida sempre della comunità europea che aiutano all'applicazione del regolamento per esempio EMAS che è un regolamento di gestione ambientale più rivolto ai territori quindi hanno ricevuto per esempio la certificazione EMAS alcuni parchi nazionali che è un po' complessa noi infatti sui campeggi eravamo partiti con questa certificazione EMAS che era molto complicata nel frattempo è uscita la regolamentazione Ecolabel e quindi abbiamo cambiato immediatamente obiettivo e abbiamo impostato tutto sull'Ecolabel che è un marchio che più diciamo si adatta agli operatori turistici che appunto EMAS è più per gestione ambientale di diverso tipo i principi comunque che stanno alla base di tutti i regolamenti sul turismo sostenibile si basano con questi tre punti che noi abbiamo applicato come avevo spiegato cioè pianificazione e programmazione territoriale è importante sia per nuovi insediamenti ma anche per quelli esistenti poi la pianificazione appunto alla scala degli antilocali e poi azioni di gestione delle singole strutture quindi diciamo una gerarchia poi delle politiche andiamo avanti ah queste sono cioè praticamente quello che noi abbiamo fatto la variante di tutela e valorizzazione è la pianificazione a livello territoriale la pianificazione a scala diciamo particolareggiata è il piano dei campeggi e poi le azioni riferite alla struttura è Ecolabel quindi diciamo una gerarchia di azioni questo è quello che ha fatto Itaca credo che bisogna cliccare perché vada solo allora questa è la scansione delle attività che sono state sviluppate per arrivare al prodotto che vi ho illustrato quindi l'inquadramento ambientale poi vedremo come è stata fatta l'analisi il repertorio di sperimentazioni attuate in corso cioè sono state reperite tutta una serie di esempi di campeggi europei ed italiani poi è stato definito il layout con l'amministrazione e poi sono state definite tutte le buone prassi per il campeggio e sono state applicate al progetto pilota quindi A, B, C, D e adesso per ognuna di queste lettere viene spiegato ve lo spiego comunque velocemente questo è l'inquadramento ambientale sono state fatte tutte le analisi tese agistico ambientali per capire poi quali erano i principali requisiti localizzativi qual era il sito migliore e l'orientamento migliore per sviluppare l'intervento attraverso poi tutta un'analisi anche su i fattori climatici come aveva detto precedentemente quindi è stata fatta tutta un'analisi andiamo ecco sulle temperature minime massime durante l'inverno sull'eleofania assoluta l'umidità le precipitazioni cioè tutta un'analisi sul luogo per capire poi l'orientamento sia di tutto l'insediamento che dei singoli edifici è stato fatto tutto uno studio poi di simulazione dinamica sulla viabilità per capire quali erano gli accessi come potevamo cambiare anche tutti i flussi di traffico e al termine di questa analisi si è passati ad analizzare le sperimentazioni attuate nel contesto europeo in Italia abbiamo trovato due esempi che avevano acquisito dei marchi di qualità ambientale o che avevano ricevuto dei premi per la sostenibilità ambientale molto più attivi nel campo della gestione ambientale gli operatori turistici europei più sensibili allora questo è il quadro questo è un quadro di sintesi per ognuno di questi poi c'è una scheda una scheda precisa ecco per esempio questo è l'esempio di un campeggio in Olanda e gli aspetti ambientali abbiamo analizzato gli aspetti ambientali hanno attuato dispositivi per il risparmio energetico alcuni dispositivi per quello idrico e trattamento di rifiuti poi tra le buone pratiche hanno diciamo utilizzato hanno l'obbligo di utilizzo detergenti ambientalmente non aggressivi e hanno poi un programma che poi propongono anche agli utenti educativo su ecologia e natura e poi anche le certificazioni che hanno ottenuto in questo caso la certificazione ADAC sono comunque locali ed è stato poi studiato anche la dimensione dei campeggi come si sono strutturati insomma c'è tutto un repertorio diciamo di esempio questo invece è il camping capalonga a Bibione in Veneto che sono stati molto attenti ai temi ambientali infatti gli aspetti ambientali vedete l'elenco è abbastanza corposo e loro hanno ottenuto la certificazione Emas è l'unico campeggio dove abbiamo trovato la certificazione Ema ha anche la certificazione ADA che ha avuto un riconoscimento del leone d'oro proprio per la sensibilità sui caratteri ambientali c'è un esempio per esempio di un bungalow non c'è la densità che noi vediamo su molti campeggi certo hanno a disposizione un'estensione territoriale notevole perché hanno una superficie di quanti ettari 26 ettari insomma non è poco qui è stata fatta un'analisi che ci ha aiutato per capire tutta una serie di requisiti a partire dal abbiamo stabilito il campeggio la superficie minima avre un campeggio perché posso offrire servizi adeguati e di 5.000 metri quadrati al di sotto di questa superficie è difficile riuscire a garantire spazi che rispondano allo standard ormai della domanda nel senso che ormai per un campeggio si richiedono determinati servizi la piscina il campo da tennis determinate aree per bambini il club appunto per bambini per adolescenza insomma e tutta una serie di servizi questa è una tabella che è servita poi per il dimensionamento questa invece è diciamo una simulazione schematica dell'aggregazione delle funzioni del campeggio per metri quadrati quindi di questi 5.000 metri quadrati quanti devono essere dedicati alle piazzole quanti servono per i servizi per i servizi igienici per il verde per i parcheggi questa diciamo è nell'ottica del manuale nel senso che se sono operatore voglio realizzare un parcheggio comunque ho tutta una serie di considerazioni e analisi a cui posso attingere e poi verificare se sono attendibili comunque è stata fatta questo dimensionamento è stato fatto prendendo ad esempio tantissimi campeggi italiani e europei quindi alla fine diciamo c'è anche un po' un confronto con gli operatori quindi è abbastanza attentibile certo è schematica e poi va adattata ogni volta alla realtà anche del terreno e del territorio e ci sono tutti i requisiti dimensionali vedete che c'è proprio tutta la scheda secondo passo dopo aver acquisito tutta questa analisi è il layout l'abbiamo visto quindi possiamo andare avanti e qui arriviamo alla definizione di buone prassi per la qualità ambientale dei campeggi puntando su questi quattro questi quattro criteri qualità ambientale dell'insediamento degli organismi edilizi risorse naturali e cariche ambientali che sono i quattro macro criteri di Ecolabel cioè i requisiti che vengono richiesti sono aggregati secondo secondo questi ah c'è anche gestione ambientale qui c'è un po' di riferimenti su che cos'è Ecolabel il fatto che comunque è un'adesione volontaria e che è basata su dei criteri che sono obbligatori per ottenere il marchio il marchio Ecolabel è quella specie di Margherita lì in basso esatto come si è evoluta la normativa il campo di applicazione perché il marchio Ecolabel si può applicare a tantissimi diciamo prodotti questi sono i macro obiettivi che si applicano poi che sono stati poi applicati al campeggio e sono sempre diciamo quelli che abbiamo visto riduzione emissioni atmosferiche abbattimento di inquinamento acustico riduzione utilizzo di rifiuti liquidi protezione delle falde acquifere ottimizzazione della modalità raccolta trasporto e recupero dei rifiuti incentivazione al compostaggio per ognuna di questi obiettivi sono elencate tutta una serie di strategie questo lo trovate poi nella normativa Ecolabel per poi invece ognuna di queste strategie essere declinate in requisiti questi sono i marchi di qualità ambientale delle strutture ricettive che noi troviamo in Italia e in Europa questi sono i criteri obbligatori e l'elenco dei criteri obbligatori per questi criteri poi ci sono delle schede questi sono i facoltativi ogni facoltativo ovviamente si hanno dei punti quindi una volta per gli obbligatori poi ci sono vari punti a seconda del livello diciamo di adempimento quando alcuni criteri obbligatori non possono essere soddisfatti in pieno attraverso quelli facoltativi si ha la possibilità di raggiungere il punteggio minimo necessario per avere la certificazione qui vedete queste tabelle sono divise in quattro colonne nella prima c'è scritto se il criterio è obbligatorio se è facoltativo nella seconda se si applica il campeggio nella terza se si applica una struttura ricettiva al chiuso invece e poi c'è la spiegazione no andiamo avanti perché qui si vede e poi ci sono i criteri non so per esempio un criterio obbligatorio il secondo l'energia elettrica per il riscaldamento il requisito è molto circostanziato dice per farvi un esempio almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle aree comuni dell'unità in affitto adibita al pernottamento e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabile quindi è molto preciso e poi va dimostrato quindi vuol dire che se si utilizza il fotovoltaico bisogna dimostrare che almeno il 22% dell'energia elettrica viene utilizzato attraverso il fotovoltaico poi anche le emissioni per esempio delle caldaie dicono di che classe devono essere le emissioni inferiori a 70 mg quindi sono molto molto precise quindi comunque l'ottenimento della certificazione non è una cosa da prendere sotto gramma impone comunque tutta una serie di interventi sia fisici sulle strutture che poi di gestione quindi noi abbiamo preso i criteri abbiamo applicato tutti gli obbligatori abbiamo scelto tra i facoltativi quelli che potevamo applicare i campeggi e abbiamo dimensionato tutto secondo requisiti quindi abbiamo fatto una simulazione ecco queste sono praticamente delle strategie definite dal regolamento EMAS quelle che poi sono state prese ed applicate al campeggio qua c'è una sintesi di quello che praticamente vi ho già detto insomma vi ho già spiegato applicato al suo progetto perché ovviamente questa presentazione andava fatta prima ho deciso di farla dopo e rimandare al pomeriggio perché ritenevo che comunque andare subito ai risultati fosse diciamo più accattivante e meno noioso per cui comunque ovviamente sono vi ho spiegato il risultato ma vi ho spiegato anche poi la metodologia che abbiamo utilizzato a monte qua c'è trovate per ogni modalità di intervento questo lo trovate nel libro EcoCamp le specifiche tecniche la descrizione e il dimensionamento del progetto e la bibliografia di riferimento cioè per ogni strategia viene detto come interveniamo quindi non so riduzione dell'energia elettrica come interveniamo quali sono tutte le specifiche tecniche che noi abbiamo utilizzato una per una come le abbiamo dimensionato e vedete per esempio qui qui si parla delle vasche di fitodepurazione allora si dice la superficie totale delle vasche di depurazione è 4700 divise in due fasce che depureranno i refri prodotti dal campeggio stagionale che praticamente funziona in determinate zone dell'anno le zone abitative i servizi e poi sono state dimensionate in maniera che soprattutto la parte più costruita quella a monte potesse poi essere attiva durante tutto l'anno perché quella lì era una corte circolare che poi riprende comunque il disegno del foro annonario tutta porticata con ristoranti bar eccetera e quella poteva come in un punto alto vista mare protetta dai venti una struttura che poteva vivere tutto l'anno quindi è stata dimensionata anche in base all'uso stagionale o annuale quindi trovate tutti tutti i dimensionamenti in termini proprio di metri quadrati e requisiti e poi la bibliografia di riferimento per la progettazione cioè sono stati usati testi molto tecnologici perché c'è tutto il disegno la sezione la pianta e poi anche trattati come saggi come trattamento delle acque reflue specifici insomma cioè la bibliografia se qualcuno volesse poi andare ad approfondire se per esempio qualcuno di voi ha voglia di costruire proprio la propria struttura recettiva un piatto di fidodepurazione attraverso il manuale le fonti bibliografiche può approfondire il tema e trovare più facilmente delle fonti di riferimento utilizzabili è finito? abbiamo finito? se non mi ricordavo neanche più la fine ripeto se qualcuno avesse voglia di avere il libro non è che da segnalarmelo e potremmo poi inviarlo se volete fare delle domande se volete rimanere in mente anche il tempo potete magari ricordarle in via meglio se non se non qualche dubbio qualche dubbio io soprattutto ai progettisti consiglio questo libro perché di solito l'architettura turistica è vista come un'architettura di serie B non so perché esistono manuali su ogni cosa sull'architettura turistica molto meno tant'è che ho visto che la bibliografia che avete utilizzato è comunque una bibliografia generica legata alle questioni ambientali generiche quindi essendo in questo caso state applicate poi ad una struttura turistica ricettiva è uno dei pochi esempi ecco di bibliografia io ho fatto delle ricerche bibliografiche in questo settore e tutte le altre riviste cioè gli altri libri che avevo trovato risalivano agli anni 70 a studi soprattutto francesi che sono molto specializzati nel settore turistico all'aria aperta io mi auguro che questa presentazione sia servita un po' a riabilitare la figura dell'architetto perché nella scorsa incontro i ragazzi dello stello bello dicevano che nei lavori che hanno fatto l'architetto gli ha messo i bastoni tra le ruote non gli ha fatto considerare una serie di cose insomma ce l'avevano a morte con gli architetti quindi mi auguro che sia servito a capire che non tutti gli architetti sono cattivi poi ma ci sono anche dei buoni non lo so se qualcuno ha qualche dubbio o curiosità a riguardo se no ma le ritiene che questo tipo di progetti abbiano prospettive larghe in Italia diciamo parlando appunto le città la crisi il campeggio e il recupero urbano che sono tematiche all'ordine del giorno ma concretamente dal punto di vista della sua esperienza professionale quanti sono i margini c'è da essere ottimisti più o meno ottimisti io è la prima volta che sento parlare di questo tipo di progetti sul campeggio in particolare quindi sono abbastanza curioso allora diciamo il campeggio è da sempre considerato una struttura ricettiva appunto di terzo grado non è stata poi mai considerata perché non è una struttura ad alto reddito ad alto profitto quindi non è mai stata molto considerata dalle amministrazioni né a livello statale né a livello regionale infatti ci sono dei buchi normativi ci sono dei buchi nei piani regolatori non c'è mai una regolamentazione chiara per i campeggi lo dicevamo prima cioè non si può stabilire in maniera dirigistica normalmente qui faccio un campeggio in una zona agricola perché magari quel proprietario del campeggio non ha voglia lì magari si semina girasori vuole continuare a seminare girasori cioè la creazione dei campeggi si deve essere diciamo mirata ma deve essere un pochino più resa flessibile perché non c'è mai una norma chiara cioè nel momento in cui un operatore vuole fare un campeggio nel posto dove ha il terreno dove che ritiene che ci siano le potenzialità ambientali sicuramente si scontra con una norma che non glielo permette quindi sicuramente ci vuole un'evoluzione normativa e una sensibilizzazione io credo che i tempi sono abbastanza maturi oggi per questo tipo d'approccio perché c'è una domanda forte mentre venivo in viaggio che sfogliavo la rivista di Alitalia c'era un servizio proprio sul turismo ecosostenibile ho fatto un'intervista in Italia su larghissima scala e i turisti praticamente hanno dichiarato che sono disponibili a spendere fino al 10% in più per strutture turistiche che abbiano questa sensibilità cioè dice va bene lo paghiamo perché vediamo che questi soldi spesi in più sono spesi dall'operatore per garantire poi una sostenibilità ambientale quindi la spinta dal basso c'è c'è una fortissima voglia di ritorno appunto a un contatto più diretto con la natura il problema è sempre di come vengono gestite queste cose a livello locale ma più locale che statale il problema proprio di gestione dell'amministrazione dell'amministrazione locale ci vuole un po' impegno e poi ci vuole però anche la domanda da parte degli operatori deve essere chiara precisa circostanziata cioè se si ha bisogno di un pacchetto di norme diverse che aiutino ci vuole una domanda chiara a cui deve corrispondere una risposta una risposta chiara il mercato comunque lo fa sempre la domanda quindi se la domanda è forte il mercato dovrà rispondere e quindi è bene diciamo prevenirlo perché comunque non è che un cappeggio si fa dall'oggi a domani un cappeggio ha bisogno comunque di alberi ombreggianti e ci vuole del tempo quindi adesso è il momento di pianificarli progettarli per essere poi pronti nei prossimi anni anzi si sarebbe dovuto partire un po' prima diciamo però il parcheggio il campeggio è stato abbandonato cioè la mia generazione il campeggio l'abbiamo vissuto in maniera totalizzante periodo anche campeggio anche libero ma io lo vedo con mio figlio la tenda non l'ho mai utilizzata mai quindi poi c'è sempre la storia corsi e ricorsi per cui probabilmente ci sarà invece un ritorno io sono fiduciosa io sono fiduciosa però ci vuole la sensibilizzazione delle amministrazioni locali che sono state sempre tirate per la giacchetta dai grandi costruttori l'edilizia oggi è in crisi quindi è il caso che si facciano avanti gli operatori turistici comunque poi anche per diciamo sviluppare un impianto di questo tipo l'investimento è sicuramente meno impattante di un albergo anche l'albergo non è non è redditizio io ho visto a Senigallia ogni volta che imponevamo in una zona di fare un albergo ci venivano i costruttori e dicevano ma la casa io la vendo sulla carta mi danno incasso i soldi e costruisco e l'albergo che faccio l'albergo non ha la stessa dinamica però l'albergo porta turisti e sono posti di lavoro mentre invece la residenza non porta niente porta continua a portare perché sono poi case lì case seconde case c'era un patrimonio di seconde case incredibili sono state gente che arriva solo l'estate quindi oltretutto se non sono poi dimensionate tutti questi sviluppi di lizi non sono accompagnati nello sviluppo anche di tutte le impianti impianti fognari lì ogni volta che piove si allaga tutto per esempio perché c'è stata questa aggressione da parte della residenza perché a un certo punto vendevano a prezzi esorbitanti le case per cui buttavano giù e costruivano volumi incredibili e poi il territorio non regge il territorio non regge e quindi sicuramente piove di più piove più forte lì insomma il fiume poi mi sono andato un paio di volte però lo vediamo anche lo vedo anche a Roma tutti i giorni ma lo vediamo con tutte ogni volta che piove un po' di più cioè se il territorio è aggredito se si costruisce sugli alvei dei fiumi dove non si può costruire se si costruisce attaccato attaccato al mare se l'acqua non gli si dà spazio per ogni volta cresce spazio per espandersi quindi io credo che ci sia necessariamente un ritorno a tutta una serie di attenzioni e quindi credo che il momento sia maturo vi dico perché è un periodo che insieme agli orti urbani sento parlare di campeggi e non è un caso non è un caso se 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 vi approcciate al tema vedete che ci sono tutta una serie di cose che fanno parte di di uno stesso di uno stesso trend di uno stesso trend secondo me che va in quella direzione adesso non so qui in Puglia come si sono sviluppati i campeggi se sono campeggi storici se ne stanno nascendo di nuovo di nuovi sicuramente il fenomeno del bed and breakfast è stato un fenomeno invasivo perché sicuramente è molto più semplice sicuramente è stata una buona iniziativa però il campeggio è un'altra cosa è diversificare l'offerta in maniera diversa tra l'altro lo vedremo domani in dettaglio il trend del turismo all'aria aperta però in Italia il boom negli ultimi anni di come dire di ingressi turistici di pernottamenti sia soprattutto negli agriturismi e nelle masserie rispetto al settore alberghiero questo significa che comunque il mercato sta sempre più richiedendo un contatto con la natura e con un certo modo di vivere la natura che va appunto di pari passo con queste tendenze che si diceva di riscoperta dei valori autentici eccetera il campeggio invece ha subito un incremento nonostante offra questo discorso del contatto con la natura un incremento molto inferiore rispetto a quello delle aziende agrituristiche e delle masserie probabilmente perché a livello di tipologia non si è evoluta è rimasta quella tradizionale delle tende delle roulotte una vicino all'altra che non garantisce poi quella qualità si garantisce il contatto con la natura ma privo di qualsiasi charme di qualsiasi come dire qualità appeal e quindi domani avremo modo di vedere quali sono le nuove tendenze del turismo all'aria aperta quindi quelle tende da una babbi che vedevamo prima di un campeggio negli Stati Uniti stanno poco a poco arrivando anche in Europa e quindi i nuovi trend del turismo all'aria aperta cercano di coniugare il contatto con la natura e un alto standing dell'offerta questo coniugato nella parola glamping di cui parleremo appunto domani che è questa nuova tipologia che stanno cercando di importare in Puglia con alcune difficoltà ma che potrebbe essere finalmente l'elemento per coniugare la tutela del territorio e lo sviluppo turistico sostenibile quindi insomma sono sicuramente delle innovazioni da importare qui da noi qualche altra riflessione ci rivediamo domani allora dunque domani ci rivediamo a Diab quindi ci rispostiamo alla Fiera del Levante a partire dalle 9 con la solita mezz'ora di tolleranza e parleremo appunto del glamping di questa nuova forma di turismo all'aria aperta io ringrazio moltissimo l'architetto è stato davvero molto interessante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti